Sì, siamo molto molto rammaricati per l'infortunio del nostro difensore centrale Buccio, però purtroppo sono cose che capitano nel calcio, è un infortunio involontario. L'importante era prendere tre punti in questa sosta, abbiamo tre settimane, per poter recuperare qualche giocatore a ciaccato. Cercheremo sempre di fare la nostra parte in questo campionato, che sta diventando un pochettino più difficile rispetto a quanto immaginavo. Ci sono Salemi, Oratorio, Santiciro e Giorgio che stanno correndo? Sì, ci sono due squadre avanti che stanno correndo, però li dobbiamo affrontare in casa. Noi pensiamo prima di tutto alla partita con il Castel Termini, che è una buona squadra. Cercheremo di fare anche questi tre punti per cercare di scavare qualche posizione e arrivare il più avanti possibile. Noi con la società abbiamo ragionato, anche col Presidente, se c'è la possibilità di prendere qualcuno che fa il caso nostro va bene, ma senza doppione e senza perdere il nostro obiettivo, che è quello di fare un campionato di vertice, sì, però dobbiamo guardare anche l'aspetto economico. Tre settimane non di vacanza ma di duro lavoro, vi aspettano ora, no? Sì, per noi ci voleva questa vetrina di Natale, che ci sono tre settimane di fermo. Per noi sarà molto importante cercare di far recuperare qualcuno, perché noi abbiamo tantissimi ragazzi, tantissimi giovani che non hanno fatto la preparazione, non l'ha fatto quasi nessuno, tranne Settecasi o qualcuno che viene da un'altra squadra. Questo ci servirà per noi per ricaricare le batterie, prima di tutto per cercare di recuperare quei giocatori che non hanno fatto il ritiro in estate, che alla fine è fondamentale per il proseguo di tutto l'arco del campionato. Per questo Settecasi è stato molto positivo, molto positiva la sua partita. Vedi, io Settecasi ormai da un paio d'anni che con me conosco il valore, e poi lui in queste piazze si esalta di più, ma vi posso garantire conoscendo il ragazzo è ancora al 50%. Speriamo di recuperarlo anche lui al 100% perché è un valore aggiunto, ma non solo lui, perché lui senza gli altri 19 non ci può fare vincere da solo il campionato, il campionato oppure aspirare ai vertici. Però lui è un giocatore che a volte si inventa da solo le giocate, nei momenti che magari la squadra soffre, che non va, non cerca il via del gol, lui si può inventare la giocata e cercare di farci vincere qualche partita. Volevo ringraziare tutti i miei ragazzi, quelli che ci sono stati all'inizio, e questi che sono venuti ora, di augurargli un buon Natale, principalmente in maniera particolare a Emiliano Bellavia, che è un ragazzo da 20 anni che è con me, che si sta sacrificando, oggi avete visto, che ha dato il suo contributo sia dentro che fuori campo.